TATO ZANZA TATO ZANZA Volevo ricordarvi che vi aspetto tutti i miei showroom Tu showroom, rubi e basta No, vi aspetto le mie showroom per acquistare i miei capi Ma quale capi? Cap di cazzo che si può acquistare da te? Vi aspetto a mani aperte, ah Davo dai Ma quale a mani aperte? Con le tue mani ormai non fai più niente, fai schifo cazzo, vatti Il famoso sarto che ha vestito tra i più importanti personaggi dello spettacolo mondiale non solo Come per esempio Memo Remigi, Rick e Gianna, Mino Reitano, Fred Bungusto, Claudio Lippi, Drupi, Liupen Terzo e Fujiko Raimundo Vianello, Toto Cotugno, Leone di Lernia e il padre di Atarus Tu con le mani rubi e basta, soltanto quello sai fare, andare negli appartamenti rubati Non è vero, io sono un uomo pulito Ma quale pulito? Un uomo che si è fatto da solo e tu lo sai Tu ti sei fatto da solo, soltanto lo troviamo Se cerchi eleganza e personalità allo stesso tempo Alla nuova sartoria di Tato Zanza troverai ciò che fa per te Grazie ad uno staff collaudatissimo con oltre 50 porcone Di me ti puoi fidare, puoi mettere anche le mani sul fuoco Sul fuoco, sul culo bisogna mettere le mani a te Perché ovunque metti le mani, tu fai sparire tutto, ladro Fezzo di stronza Va a rubare le vecchie, figuriamoci alle persone Andavo dai Andavo dai, andavo dai, da presto tu cazzo, vatti Sì, sì, hai ragione tu Ma qual è il ragione? Tu una ragione soltanto c'hai, di andare a fare in culo Come no? Cosa aspetti? La nuova sartoria di Tato Zanza è all'aeroporto di Malpensa Sì, proprio sulla pista d'atterraggio E fino a maggio del 2040, se ci arriverai Completi e cappotti da scippo in metropolitana Con braccia nascoste e sacco contenitore per i gioielli Tutto a partire da soli 7 euro Tato Zanza Tato Zanza Non uno stilista qualunque No, me no Lo stilista Andavo dai Andavo dai, vuoi vedere che ti do un calcio in culo? Vaffanculo, vai via Autorizzazione ministeriale concessa E se non ce l'hai, sono cazzi tuoi E se non ce l'hai, sono cazzi tuoi